Il nuovo mister! Quel mister è un pezzo di merda di più che tu li ha! E' l'italuno! Adesso oggi facciamo sesso! Sesso? Eh, mozzo le facciaranno! Sesso! Ti piaccio? Sì, ti piaccio? Oh, cazzo di golo! Eh, lo conosci sti ragazzi? Oh, mi! Amico! Ecco, ecco, ti presento! E' parlato di sesso! Già, ma perché non te ne cesserà? Ma si manca! Questo è il marco! Hai visto che se ne caccio se ne vede? Vai! Aspetta! Oh! 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 Form chartina! Ho! Degadato! Uro! Ura! Ura! Ura!